ho finalmente ho finito di registrare il video delle versioni budget mo ricarico un attimino la pagina per vedere i prezzi ma perché è aumentato del 35 per cento perché da 2 a 7 euro adesso ho finito di registrare ho fatto un c***o così adesso ho finito questi muove viano pure per cazzaro come c***o vabbè ok